Sotto il sole di piazza Saffia, Forlì e tutti regolarmente con mascherine, si sono riuniti i rappresentanti di quartiere e i sostenitori per il sit-in organizzato per protestare contro la realizzazione di un nuovo supermercato da 2.500 metri quadrati in un'area tra le vie Bertini e Balzelle, che tanto sta facendo discutere negli ultimi tempi. La protesta, partita dai residenti del quartiere, ora si è allargata al mondo della politica e quello degli ambientalisti, presenti infatti anche i rappresentanti dei partiti e sindacati. Ho lanciato questa petizione perché a seguito della presentazione della variante in consiglio comunale e poi del ritiro della stessa il 19 maggio del 2020 scorso, ho deciso di interessarmi al tema e ho deciso di lanciare questa petizione verso l'amministrazione comunale di Forlì per chiedere che il progetto venga ritirato. Come CGL di Forlì abbiamo deciso di aderire a questo sit-in promosso dai quartieri, in particolare i quartieri di Coriano, perché riteniamo che una nuova struttura commerciale a Forlì non serva. Abbiamo sostanzialmente contestato tre cose. La prima, che una struttura commerciale di queste dimensioni a Forlì inciderebbe negativamente sull'occupazione del settore del commercio in quella località e anche nel centro storico. In seconda battuta basta a nuove strutture commerciali edificate, basta al cemento, andiamo a ripualificare quello che c'è. Quindi c'è un problema ambientale di cui ci dobbiamo fare tutti quanti carico. Noi vorremmo sapere, chiedere all'amministrazione per quale motivo è la costruzione di questa. È necessario, visto che intorno ci sono già una serie di supermercati.